Oggi era una giornata importante anche per quanto riguarda il rispetto delle regole da parte degli italiani. C'era il sospetto che qualcuno potesse sentirsi libero di fare qualsiasi cosa, di tornare alla vita perfettamente normale. Così per fortuna non è andata. Dopo daremo anche un'occhiata a un po' i racconti che provengono dal territorio. Va detto che il 3 maggio è terminata la fase 1 dell'emergenza e il Ministero degli Interni ha diffuso i dati relativi all'attività di controllo su tutto il territorio nazionale, grazie a tutte le forze di polizia. Controllo che ha riguardato gli spostamenti, le persone ma anche gli esercizi commerciali. Nel complesso dall'11 marzo sono state eseguite oltre 17 milioni di verifiche, cioè 17 milioni di persone che sono state controllate. Oltre 12 milioni queste persone controllate, scusate più di 400 mila invece, quelle che hanno ricevuto una sanzione, una denuncia perché non avevano le carte in regola. Erano uscite quindi in modo abusivo oppure spesso, lo abbiamo anche raccontato, mentre erano in quarantena, positive. Mentre sul fronte delle attività sono quasi invece 5 milioni i controlli e più di 7 mila invece insieme fra sanzioni e denunce. C'è questo tema dell'autocertificazione, nel senso che è ancora in vigore, intanto vedete gli esercizi commerciali controllati e questo è il dettaglio appunto per le varie categorie. Vi dicevo del tema dell'autocertificazione, è ancora in vigore, nel senso che serve ancora, ma non per recarsi al lavoro. Basta infatti un tesserino, basta comunque dimostrare che si sta andando a lavorare. Insomma, comunque restano ancora dei buchi da chiarire, lo capiamo e poi naturalmente i dettagli li scopriremo col passare dei giorni, man mano che si presenteranno poi le occasioni. Intanto con Paola Motto proviamo a capire quello che si può fare e quello che non si può fare al momento. Divieto di assembramento, distanziamento tra persone, mascherine. Anche nella fase 2 sono queste le regole che ciascuno di noi dovrà osservare. Per chi va al lavoro potrà essere sufficiente un'adeguata documentazione come un tesserino o una lettera del datore di lavoro. Anche per chi va a fare sport o al parco non serve, ma formalmente gli spostamenti devono ancora essere giustificati con l'autocertificazione. Un nuovo modulo disponibile sul sito del Viminale, anche se potrà essere utilizzato ancora il vecchio, barrando le voci non più attuali. La nuova autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Nel nuovo modulo sono elencate le quattro motivazioni alla base dello spostamento. Comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazioni di necessità e motivi di salute. Si possono incontrare congiunti spostamenti giustificati per necessità, anche se rimane fortemente consigliato limitare al massimo gli incontri con le persone non conviventi. L'ultimo DPCM consente inoltre lo spostamento fra regioni diverse, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute. Paola Motta, Sky TG24